Sono Daniel Rea e tra poco mi esibirò qui nel paviglione italiano con un concerto dedicato alla musica dei grandi compositori italiani che va dai grandi compositori come Cuccini, Mascagni, Verdi, quindi un'improvvisazione sulle aree d'opere per arrivare poi ai cantautori come Modugno, De Andrè. Quindi non posso dirvi il programma perché praticamente lo improvviserò, per cui vado a braccio. In realtà io cerco l'emozione e questa per me è una grande emozione perché sono atterrato qui a Dubai, ho appena visto il padiglione e credo che sia qualcosa di straordinario. soprattutto ha grandissima attinenza con l'idea di Tutte l'Expo, la sviluppa in maniera molto italiana, per cui c'è questo connubio fantastico tra il grande talento, la grande estrosità dei grandi artisti italiani e la grande possibilità di proiettare quella che è la tradizione, la grandissima tradizione, proiettarla in un futuro in cui gli italiani possono, sono sicuramente molto creativi, ma anche possono dare una grande mano a questo mondo che ha bisogno sicuramente di cambiare un po' rotta verso qualcosa che cerchi di proteggerlo per il futuro, perché abbiamo bisogno proprio di questo. Quindi questo che ho visto mi darà l'ispirazione per quello che sarà il concerto di stasera. Come voi sapete noi seguiamo l'emozione del momento e spero almeno di lontanamente di riuscire a ricreare le emozioni che ho visto visitando questo meraviglioso padiglione.